Musica Belli rega sono Arian Ed eccoci qui Il tutorial su come sbloccare la spingarda gratis Ovviamente ci sono due metodi per sbloccarla O tramite la cassa Altrimenti La possiamo sbloccare gratis Ma dobbiamo avere il tomoc Perciò se non sapete come farlo Il link avete in descrizione il video Appunto Per vedere come farlo Allora come vedete Abbiamo bisogno anche della chiave Perciò dello scudo Se non sapete gli spot Perché in totale dobbiamo prendere 5 teschi Come su mob of the dead I teschi raga sono quelli che state vedendo nel video Ovviamente se avete lo scudo E avete anche la chiave Inserendo la chiave potrete vedere Dove si trovano precisamente I teschi Altrimenti potete fare come ho fatto io In Alcuni tentativi Cioè che vedete che glielo tiro pure random Ma me l'ha preso questo qua L'importante è che glielo tirate più o meno vicini Alla fine comunque lo scudo Non servirà più di tanto Perché una volta che sapete comunque Tutti gli spot a memoria Diciamo che lo scudo diventa inutile Un altro spot raga l'abbiamo qua vicino allo spawn E per ultimo abbiamo Questo spot che possiamo trovare vicino allo spawn Se vi ricordate di mob of the dead E questo comunque è uno spot che c'era anche su mob Perciò chi se lo ricorda Meglio per lui Dopo aver preso questi teschi Possiamo tornare dentro L'ufficio del direttore E prendere la nostra bella Spingardatrice gratis Per continuare a fare poi gli altri step Raga ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao